ciao a tutti da simracingleague.it ieri 18 dicembre 2020 ac sport ha pubblicato il regolamento di settore e sport per la stagione sportiva 2021 è un documento che definisce quella che sarà di fatto la prossima stagione sportiva del sim racing italiano documento molto atteso perché insomma dopo i riscontri positivi ricevuti nella stagione sperimentale di questo 2020 finalmente questo documento disciplina il settore di fatto con regole di tutela sportiva per tutti gli attori del sim racing nazionale lo attendevamo veramente con ansia e attendevamo soprattutto quella che è la definizione delle caratteristiche e di quello che chi vorrà partecipare ai campionati federali dovrà possedere riprendendo quello che è il comunicato che ha fatto poi ac sport immediatamente dopo la pubblicazione possiamo innanzitutto anticipare che il regolamento di settore prevederà cinque tipologie di prodotti e sport ovvero licenze e sport che sono quella di concorrente conduttore oppure concorrente conduttore assieme organizzatore e ufficiale di gara premettiamo che dovremo fare un po di chiarezza su questi aspetti in modo che tutti poi sappiano come affrontare la prossima stagione e quali sono le licenze che dovranno poi richiedere ad ac sport sempre nel comunicato ACI insomma rappresenta che le licenze da concorrente conduttore e concorrente conduttore saranno rilasciate dagli uffici sportivi degli automobili club locali questa è la prima comunicazione non si sa se in futuro ci sarà anche la possibilità di ottenere le licenze con un sistema online stiamo aspettando e sicuramente ve ne renderemo partecipi eventuali altre disposizioni in merito che sicuramente l'ente ci farà sapere al più presto chiaramente saranno previste anche licenze speciali che sono quelle da organizzatore ovviamente e soprattutto quelle da ufficiali di gara che saranno formati proprio a cura di ACI sport il regolamento del settore insomma poi disciplina quali sono i software riconosciuti dalla federazione che in questo momento sono i racing, air factor 2, assetto corsa, assetto corsa competizione, race room, gran turismo sport e dirt rally 2 insomma e tante altre cose che un po' prendono spunto da quelli che sono gli altri regolamenti delle discipline reali diciamo e altre che sono adattate e tarate chiaramente per quello che riguarda il sim racing andiamo quindi a vedere quali sono i passaggi fondamentali di questo regolamento di settore del quale io vi lascio il link in descrizione ma che potete chiaramente trovare sul sito di ACI sport a partire proprio da quelle che sono le licenze di conduttore o di concorrente e quale è la differenza che è importante per poter poi partecipare alla stagione agonistica l'articolo più importante del regolamento di settore almeno quello che interessa proprio chi vi vorrà partecipare è l'ammissione alle competizioni allora il concorrente è la persona fisica maggiorenne quindi di 18 anni compiuti che può iscrivere alla manifestazione fino a 6 vetture o conduttori allora questa è una parte molto importante perché chi vorrà iscriversi al campionato o iscrivere al campionato delle vetture dovrà possedere la licenza di concorrente che potrà essere o esclusivamente quella di concorrente o ancora meglio quella di concorrente conduttore nel senso che il concorrente non avendo la licenza di conduttore di regola non potrebbe partecipare alle gare ma esclusivamente iscrivere le vetture e quindi sicuramente la licenza più indicata da possedere è quella da concorrente e conduttore in maniera da poter sia iscrivere al campionato la vettura e sia anche partecipare alla competizione ciò vuol dire che ciascun team potrà iscrivere solo fino a 6 vetture? no, in effetti un team potrebbe iscrivere più di 6 vetture ma dalla settima in poi dovrà per forza essere effettuata l'iscrizione da parte di un secondo concorrente quindi incaricato magari dal team che potrà iscrivere ulteriori vetture del team attenzione però che i regolamenti particolari di ogni manifestazione possono poi prevedere ulteriori limitazioni in quelli che sono i progetti che ha presentato per quanto concerne i campionati 2021 prevederà in effetti ulteriori limitazioni vale a dire che in ogni caso i team potranno schierare all'interno di una determinata categoria un numero limitato sicuramente inferiore ai 6 di vetture quindi questo poi sarà una cosa che ciascun organizzatore valuterà in relazione alle caratteristiche del campionato in ogni caso questa è già una delle parti importanti il conduttore minorenne dovrà chiaramente presentare insieme ai moduli per l'ottenimento della licenza anche l'autorizzazione da parte degli esercenti della potestà genitoriale quelli sarà un modulo che fornirà AC Sport ma fornirà anche l'organizzatore una cosa molto importante da tenere presente è che per partecipare a una manifestazione di sport sarà necessario possedere la licenza e-sport quindi la licenza sportiva virtuale come viene definita anche da AC stessa e non sarà possibile parteciparvi avendo licenze per altre categorie magari categorie reali o di qualsiasi altro genere provenienti da AC Sport ma bisogna possedere per forza la licenza e-sport questa è una caratteristica obbligatoria e possiamo andare a vedere un po' più nel dettaglio dallo stralcio della regolamentazione delle licenze sport 2021 che AC ha pubblicato insieme al regolamento di settore quelle che sono le licenze previste quindi nella categoria e-sport troviamo le licenze di concorrente e conduttore e le licenze speciali di cui abbiamo parlato prima le licenze di concorrente è riservata a chiunque scrive una competizione sportiva una o più vetture ad una gara e-sport nonché i relativi conduttori chiaramente le licenze sono rilasciate a persona fisica maggiorenne questa è una cosa sempre da tenere in considerazione mentre la licenza da conduttore leggiamo più sotto consentono ai titolari di condurre una vettura in una gara e-sport le licenze da conduttore sono distinte da quelle di concorrente ma le figure di concorrente e conduttore sempre come abbiamo già detto possono coesistere nella stessa persona quindi la licenza sarà di concorrente conduttore tutte le licenze di conduttore sono comprensive di pollizza infortuni e sempre come abbiamo già anticipato le licenze di conduttore sono rilasciate alle persone fisiche che compieranno 14 anni di età quindi dai 14 ai 18 si potrà avere solo quella da conduttore mentre dai 18 anni in poi si potrà avere o solo quella da concorrente o quella da conduttore concorrente vi rimando poi alla lettura di tutto il documento in modo da riuscire ad andare un po' a trovare quelle che sono le cose più importanti e interessanti possiamo quindi andare a vedere quelli che sono i costi che si dovranno sostenere per ottenere la licenza sportiva non è prevista una tessera ACI quindi non è richiesta per ottenere anche la licenza e-sports e ecco qua nel dettaglio la licenza per concorrente costerà 15 euro quella per solo conduttore 10 euro quella da concorrente conduttore 20 euro e poi abbiamo chiaramente anche la licenza da commissario sportivo e da organizzatore per far comprendere meglio vi faccio vedere come sarà impostata una domanda di iscrizione ad un campionato dove sarà il concorrente chiederà l'iscrizione dei vari conduttori e per ciascuno dovrà chiaramente essere indicato il numero di licenza, il nome del team e tutte le altre informazioni importanti vi anticipiamo infine che per partecipare alle manifestazioni che saranno organizzate su simrissileague.it sarà necessario versare una tassa di iscrizione così come per alto disciplinato dall'articolo 5 del regolamento di settore vi rimando comunque alla lettura di tutti i documenti pubblicati da C-Sport e nel qual caso abbiate domande da porre o quesiti potete contattarci sul canale discord oppure attraverso i nostri indirizzi mail anche questi riportati in descrizione grazie a tutti